Per essere il momento di costruire Ovenzio che vi interagge questo rimpostato. Non l'ho capito, io esco e tu riti, io esco e tu riti. Non l'ho capito, perché dove ne fai a scuola tu, figlio mio, che ci vieni a fare a scuola? Tu, tu ridevi, ti ho detto io, tu ridevi. Tu ridevi, puoi entrare. C'è presa, principalmente, che fa da mangiare o prendo lo capito. Da, è, accostamento, entra perché già, ma stai che foda già da prima mattina. Vieni. Che figlio, che si, che si ataciamo, co d'arte un, sempre uno, buocchia, pito, che sta, di her? Che stai, se sta tu tu. Tu, un forte, se sta tu tu. Tu, un forte, se sta tu tu. Tu, un forte macio, se sta tu tu. E ora, se sta tu tu, se non è stato lui e non è stato lui. Grazie a tutti. No, l'hai portato? Era pesante, a tuo testo non c'era pesante, non l'ho capito perché mi chiamavo, tu che stai con la mia scuola, noi dobbiamo fare, io la mattina mi prendo la 500, passo da casa tua, da casa sua, prendo tutti i libri e le porto a scuola, così poi domando, tu l'hai portato il libro? E la donna risponde, dice sì professore l'ho portato, se no mi dice non l'ho portato, se no mi dice non l'ho portato, io esco pazzo e al mio figlio lo ho spattato in amore, non lo ho capito. Il figlio lo ho spettato, io esco zato, io escozzi la mia scuola, io escozzi la mia scuola, io escozzi la mia scuola, io escozzi la mia scuola. Vieni a prima mattina già cominciamo il Samba, dopo il Samba cominciamo... Questo? Questo, con il Sireecio... Mi fa schifo, bravo bravo... Perché fai schifo? Te lo spiego subito, perché tu, figlio mio, non potrai essere mai un uomo, mai! Non ci potrai mai diventare con questa camminata così appassionata che hai! Un uomo non ci potrai mai diventare! Ora ti spiego subito, perché non potrai essere mai un uomo, perché nella vita ci sono cinque categorie di persone. Abbiamo uomini, menti uomini, omenicchi, ruffiani, casuicchi, dintere tutti! Se non ti trovi, ruffiani... E qualcuno è qua! Io, modestamente, sono un uomo, ma tu che uscire un qualcuno è qua, un paesone, te ne vai fuori, non c'è se chiù, perché già mi feria la testa! Ma non va bene male! Ma no! Non va bene... Non va bene... Eh... Scusi, ma... Posso pensare che sento freddo? Senta freddo, se pigghi il freddo... Eh già, se faccio un nemore, non ho più chiesto la colla, eh! Eh... Mi scusi, ma... Le scuse? Non c'è niente scusa! Calma, accusiti! Non dobbiamo scusiti! Calma, accusiti! Non c'è niente scusa! Un po' bene, no? Tu ti stai rettito, perché quando parlo tu io mi schifio tutto, tutto, tutto... Perché poi tu devi sapere che ho poca memoria, poi la mattina io quando mi alzo non mi ricordo neanche come mi chiamo. Infatti nel mio capezzale io c'ho scritto Nino Impastato, perché io la mattina mi sveglio, vedo Nino Impastato e mi chiamo Nino Impastato. Se per esempio ci fosse scritto Gesù, io quella mattina mi chiamerei Gesù, non lo capisco! Totalio! E' un italiano proprio proprio, prima di tutto perché non ho certe tendenze verso l'altro sesso e secondo perché se chiullario era la morte io mi schifio tutto e non ti voglio guardare! Bravo!! Bravo! Tu, tu, veni, veni, non lo capisco. Guardate, non lo capisco! E quant'altro, non lo capisco, questo portafoglio, il portafoglio, il portafoglio è il mio! Non lo capisco, non lo capisco, portafoglio, tutti si qualcosa di portafoglio, non lo capisco. Ma... assoluta, non l'ho capito, perché... tu che se cosa mi viene a scuola, un turista, tu appresti i piccoli, te ne ho chiesto. Ma per fortuna, che oggi è sabato, domani è domenica e non c'è scuola, ed io sono contentissimo, perché quando non c'è scuola, io sono contentissimo. Me ne vado in quelle montagne, lì sopra, a raccogliere i asparagi, vero? Ma dov'è sto proprio? Dov'è sto? Dov'è Dima? Ma non c'è n'è scuola, perché non c'è n'è scuola? C'è il circo, tu ci vai al circo. Certo, ma c'è di raffaele, figlio mio, perché non c'è un circone c'è, questo è una scuola, questo è un baraccone da circo. Gente... Ora me ne vado perché è suonata l'ora e lo Stato mi paga le mie ore, come scappola un minuto nell'altra ora, a me non mi paga più e non mi conviene, quindi me ne vado... Bravo! 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 Bravo!